il transessuale riccardo racconta di giorno sono uomo la sera sono dolores e te credo Conte il presente sassuolo e il futuro sassuolerò per essere più italiano inizierò a mangiare la pasta e scolarla usalo la difesa dell'intel a Civitanova Marche hanno cambiato il nome di una via hanno tolto Almirante e hanno messo Mandela invertendone così anche il senso di marcia